Sono un velocista specializzato nei 100 metri e 200 metri e nella staffetta 4% con la squadra francese. Pratico questo sport dal 2005, ho iniziato all'età di 15 anni, triplo campione europeo nel 2010, medaglia mondiale nel 2011 nei 200 metri, campione europeo nel 2012, medaglia olimpica nel 4% sempre nel 2012, medaglia olimpica a Rio nel 2016 nei 200 metri. Dunque i giorni di allenamento sono tutti diversi l'uno dall'altro, ma per parlare della giornata veramente in generale, di mattina faccio fisioterapia con il mio staff e poi mi alleno nel pomeriggio o a volte faccio stretching al mattino e poi, come ho detto, mi alleno. Dipende dal giorno, a volte è una sessione di sprint, a volte è un allenamento aerobico di forza, a volte è sprint lungo o preparazione generale, quindi a seconda del giorno sei tu che scegli qualcosa di diverso. Io dal momento che sono un atleta professionista di alto livello con la mia agenda ho accesso alle mie strutture dedicate, ho accesso alla pista, alla sala pesi, quindi posso allenarmi normalmente. Non è stato così nel primo lockdown dove non ci era permesso fare nulla, quindi abbiamo dovuto adattarci molto per non perdere troppo, per mantenere almeno la forma e la condizione fisica per poter sperare di fare una stagione dopo l'estate che stava per arrivare, ma ora mi alleno normalmente e non ho più problemi per potermi preparare ai giochi olimpici che stanno arrivando. È vero che è un obiettivo che è lì ormai da qualche anno, dopo essere tornato dai giochi di Rio 2016. Ho l'obiettivo di ripetere l'impresa, di tornare sul podio e ci si allena per questo, per raggiungere il picco della forma al momento giusto, vale a dire al momento dei giochi, quindi stiamo attraversando le diverse fasi. Naturalmente attraverso molte gare, cerchiamo di qualificarci rispondendo ai criteri della federazione francese e poi per essere pronti per l'evento mentalmente. Dal 2016 lavoro anche con uno psicologo dello sport per aiutarmi anche a prepararmi da quel punto di vista, per essere in grado di ottimizzare le prestazioni. È un po' triste naturalmente perché ogni volta che ho partecipato a un campionato, che fosse il campionato europeo, i giochi olimpici o il campionato del mondo, c'erano sempre pochi spettatori francesi. È triste non avere spettatori francesi che si spostano per sostenere la propria squadra. È un po' triste e poi vedremo cosa succede, ma non sarà la stessa atmosfera. Avremo sempre l'impressione che ci manchi qualcosa, questo è poco ma è sicuro. A noi come francesi mancherà tutto quel sostegno, ecco, sugli spalti per incoraggiarci, ma dopo tutto ci prepareremo a queste condizioni, affronteremo e faremo del nostro meglio per riportare più medaglie possibili e per riportare le medaglie proprio ai francesi che non hanno potuto fare la trasferta. Dunque faccio tre sessioni alla settimana e più che altro al mattino per recuperare dalla sessione del giorno precedente e per prepararmi alla sessione che viene nel pomeriggio. Penso che sia una parte indispensabile per l'atleta di livello alto e quello di livello molto alto ed è qualcosa di cui abbiamo davvero bisogno e che è quasi una parte integrante della preparazione dell'atleta per andare a cercare la performance e raggiungere questo tipo di obiettivi nei grandi campionati. Uso il dispositivo Indiba da circa tre anni per aiutarmi a recuperare e anche per ottimizzare il processo di guarigione dopo un infortunio. Usiamo Indiba quasi sempre, come ho detto lo uso per il recupero, per ottimizzare la sessione di recupero e poi anche con un infortunio aiuta a ottimizzare la circolazione e la guarigione delle lesioni quindi lo uso quasi ogni volta che vengo in ambulatorio dal fisioterapista. L'avevo conosciuto con la squadra di atletica francese durante i corsi di formazione ed è vero che è un dispositivo che mi è stato molto utile durante il corso di formazione e che all'inizio non conoscevo ma che mi è stato enormemente utile ed è per questo che ho voluto un apparecchio per la fisioterapia ed è un apparecchio di questo tipo perché sapevo che mi avrebbe dato sostegno e che è un vero vantaggio nel mio recupero, nel mio lavoro come fisioterapista ed è per questo che oggi Indiba è un prodotto che rappresenta un vero vantaggio e che forse al momento io credo che al momento al momento a mia conoscenza sia uno dei migliori uno dei migliori dispositivi per gli atleti. sì quello ho avuto delle piccole cadute lì ho impiegato un po' di tempo per uscire da quell'infortunio ed è stato più veloce di quello di quello che avrei potuto immaginare per me Indiba ti permette davvero di perdere meno tempo a causa di un infortunio rispetto al tuo programma di allenamento penso che ci sia voluta qualche settimana non di più per poter riprendere il programma e iniziare quindi poi a fare sprint per me i benefici di Indiba per gli atleti di alto livello sono prima di tutto l'ottimizzazione del recupero compreso anche l'ottimizzazione della guarigione delle lesioni e naturalmente aiuta a fare in modo che le fibre si rigenerino più rapidamente e soprattutto più efficacemente per evitare proprio il ripetersi delle lesioni ma è anche qualcosa di piacevole quando si usa Indiba è qualcosa che è davvero gradevole da sentire e ti permette davvero davvero di essere più rilassato e percepirlo ho seguito diversi programmi di formazione allora ho finito la scuola facendo uno stage all'insep di Parigi che mi ha permesso di scoprire il mondo dello sport di alto livello e poi ho proseguito con delle formazioni in fisioterapia sportiva con quelle specifiche sul trattamento del corridore che mi permette oggi di prendermi cura di diversi atleti ma anche di avere pazienti diciamo più del quotidiano che vengono soprattutto per la riabilitazione attiva allora trattiamo molti atleti di atletica leggera abbiamo anche corridori allenatori canottieri giocatori di rugby calciatori abbiamo una grande varietà di sport dati molti club sportivi in città cosa che ci permette di avere atleti di discipline diverse in generale sono le tendinopatie le più comuni e poi le lesioni muscolari che siano strappi o contratture a seconda della fase in cui si trovano nel loro percorso sportivo il nostro lavoro come fisioterapisti è semplicemente quello di mettere gli atleti nelle migliori condizioni per la prestazione qualunque sia la loro disciplina e per me la fisioterapia è un vantaggio rispetto a quello che possiamo offrire con le nostre mani per poterli mettere in quelle condizioni e soprattutto nel momento in cui ne hanno più bisogno quindi si permette di aumentare le prestazioni dell'atleta ho iniziato a usarlo grazie a Christophe Lemaitre alla partnership con SPE Global Consulting che ci ha permesso di testare questo piccolo gioiello di cui oggi non posso fare a meno lo usiamo su un panel già molto vario di pazienti sia sportivi che con patologie reumatiche in particolare per la velocità di miglioramento dei sintomi che sia la riduzione del dolore o l'accelerazione della guarigione quando ci sono lesioni, fratture o patologie di questo tipo ciò che è interessante con i diversi athletic vediamo è che spesso hanno percorsi di cura molto vari sono trattati da terapisti sia in allenamento ma anche nel loro luogo di studio o nel luogo della competizione e così provano molte pratiche di cura diverse e vedo che quando arrivano in ambulatorio se usiamo la terapia in Diba mi richiedono proprio questa terapia perché la trovano molto comoda e secondo loro rispetto a tutto quello che vedono la trovano molto più efficace di altre macchine che hanno provato così di quelli che vengono la stragrande maggioranza mi chiede di fare la tecarterapia in Diba in un periodo di allenamento quotidiano tratteremo aree di lesione piuttosto piccole vale a dire che l'atleta arriva, ci spiega come è andata la settimana o il giorno prima o le ultime sessioni di allenamento e secondo le sue sensazioni prenderemo di mira certe aree che sente un po' affaticate per poter tornare ad allenarsi e quindi avremo una pratica molto più mirata in generale durante il periodo della competizione invece l'atleta è in buone condizioni fisiche tutto va bene nel complesso quindi saremmo molto più globali nella presa in carico con cure che gli consentano di competere con un livello di prestazioni che si mantenga massimo nel lungo termine lo uso quasi ad ogni sessione dipende dal periodo cioè come dicevo all'inizio della sessione facciamo il punto con lui su come si è sentito su ciò di cui pensa di aver bisogno per quella sessione se si è appena infortunato, se è davvero acuta la ferita useremo la terapia per accelerare la guarigione per aumentare la circolazione a livello vascolare in modo che possa cicatrizzare il più rapidamente possibile poi quando siamo nelle fasi di recupero useremo piuttosto la parte termica insieme a manovre molto più globali quindi dipende davvero dalle sessioni e dalla richiesta che ha in relazione a questo Riguardo a Christophe in particolare beh, con il passare degli anni gli infortuni diventano sempre più frequenti è la sorte di tutti gli atleti di alto livello il corpo inizia ad essere un po' stanco per tutti gli allenamenti quindi siamo qui per aiutarlo a mantenersi al meglio nonostante il bilancio dei suoi infortuni che può aver subito secondo me la fisioterapia mi consente di accelerare il suo recupero quando si è appena infortunato per esempio è essenziale che non perda troppa capacità muscolare quindi il fatto che il dolore si riduca rapidamente gli consente di tornare attivo molto rapidamente quindi la guarigione sarà migliore e potrà ricominciare ad allenarsi molto prima cosa di cui ha bisogno beh, quello che ho potuto paragonare non è tanto per gli sportivi perché è vero che per uno sportivo è sempre difficile paragonare come sarebbe se non avessimo fatto nulla rispetto a come avendolo fatto ci sono persone che guariscono più velocemente altre un po' più lentamente quindi è difficile avere qualcosa di concreto ma rispetto a tutto ciò che è reumatico per esempio trovo che i pazienti ne sperimentano davvero l'efficacia sin dalla prima o seconda sessione con la terapia in Diba rispetto alle sessioni in cui non usiamo la macchina per cui diciamo che l'effetto analgesico è notevole e che con le sole sessioni di fisioterapia arriverebbe un po' più tardi quindi mi permette davvero di ridurre il numero di sessioni che facciamo perché così in una o due sessioni la gente si rende conto della differenza e dell'efficacia che può avere sul loro dolore Hi, I'm Megan Krippchin I'm a marathon runner I'm a 232 marathoner 69.51 and a half I'm a three time Olympic trials marathon qualifier and my highest place finish was 7th at the 2016 Olympic trials So the daily routine it changes given on what day it is is it a recovery day, is it a workout day but regardless of a hard day or easy day I like to get a little bit of a stretch in just to get the body ready to go and then if it's a workout I'm going to do somewhere between like a 20 minute warm up which is 2-3 miles 2.5-3 miles and then do a lot of drills and stretches and then a bunch of strides to get ready for some fast speed work On a regular day just stretch the body do a few little prehab rehab exercises and get the body ready to handle just a steady run and then get after my day So in order to prepare for an upcoming race it's kind of you look ahead and then you plan backwards So like for a marathon it's somewhere between like 12 and 16 week build up So we kind of look 16 weeks out like which marathon am I doing and sometimes I know about that like a year ahead of time like that's the goal and if we get there we get there but from there 16 weeks then you back up the training and I mean I listen to what my coaches tell me but we talk along the way and figure out the build up from there but in order to prepare it's following that training plan and each week you just kind of like hone in on more of the race plan and see how you're developing in your training So the hardest times in my career happen to be like in the build ups to the Olympic trials and I think both times in 2016 and 2020 you know there's a lot online there's a lot at stake and you really really want it and you know the biggest goal for me was to try to make an Olympic team and in both situations I was a little banged up 2016 was probably harder in a way because I was pool bound for the last seven weeks going into the race so and I didn't have like my typical routine with my you know physio and body work it was I was out at altitude and kind of just trying to get the right you know therapy to help me and you know it was my first Olympic trial so you know being kind of banged up and in the pool and not really running was really mentally draining and tough going into 2020 I had already had that kind of you know hiccupy experience so I was I was a little bit more knowledgeable and confident in my ability to cross train but you know there was even more at stake because it was in the second try and I really wanted to make it and I sacrificed a ton to get there yeah so I think Indiva is such a fantastic resource for therapy I have used it before and I you instantly get this warming sensation and you know it's loosening things up and getting things moving you get a little bit of a manual experience like physio body work just with the tools working over the area and then it there's different probes that that work with it but I had a warming sensation that I knew something was going on internally and what I think is amazing about the device is you know certain other therapies whether it's massage or physical therapy like you could kind of mimic certain things at home you know like pressure points and you know rolling out and and scraping a little bit but you can't you can't hone in on what's going on internally so this is targeting like your tendons and ligaments and stuff like that that you can't reach yourself so I think that is such a good thing to have the access to I think it's an integral part of therapy and your training plan because as athletes it's all about prehab and rehab and injury prevention and if I could have used this in my build-up so the 2020 trials or 2016 I think it could have helped me maybe prevented an injury that that happened and I think in order to make it in this sport you got to be healthy and if you could use this in like a weekly routine or you know every other week I think it will just help escalate your athletic ability and help you reach your potential I believe if I had Indiva in my routine it could have made a difference in just my my performance in that whole build-up not just the race because the race I got injured and that's unfortunate but if I could have helped myself along the way I think it could have changed the outcome potentially yeah absolutely I think body work is so important in this sport in mostly any sport to maintain your body and to prevent injuries and just loosen things up so you can really reach your potential and hold your truest form for me ideally it's at least once a week that I'm getting some form of body work so whether it's massage or physical therapy if I can it would be two times a week or even more if needed so if Indiva was part of my routine working with some therapist if it was incorporated once or twice a week I think that would just be like ideal access to Indiva and using it as part of your routine is a benefit period it's science-based so it's working on things that you don't have access to just by yourself and for me it's the speeding of recovery so you know doing a hard session if you have something like this it'll just help escalate things moving and flow in your body and help speed the recovery and that's how you make it in the sport because if you can recover faster that means you can get after it the next day or two days later and go after it as hard as you did or even harder and that's how you become better than somebody else your opponent so recovery is everything and speeding up the recovery and just making gains and treating your body right is how you're going to reach your potential I think having a good relationship with your therapist is everything as well if you're open and they can see things that you don't necessarily see so with Indiva it's not just targeting the injury area it could be targeting somewhere that is the root cause of it you know sometimes something that's hurting in your foot is really stemming from your back and I think using a device like this it could open up things that you don't even know are bothering you and having the therapist with the machine is like such a great pair and it's a dynamic relationship with everybody and you have to have people that are looking out for you to make it and this device is just something to add to that pile of you know help